Tutto pronto per la manifestazione culturale Ambienti Mediterranei, che è organizzata dal Comune di Centola e finanziata nell'ambito del POC Campania 2014-2020. Quest'anno si svolgerà in ben otto comuni del Cilento, a partire da questa sera fino al 24 settembre. Cuccaro Vettere, Futani, San Mauro Labruca, Ceraso, Laurito, Alfano e Valle dell'Angelo, i comuni partner interessati dalla Kermes, affidata anche quest'anno alla direzione artistica di Selvano Cerulli. La serata è inaugurale in programma questa sera a Palinuro, in Piazza Virgilio, a partire dalle 21.30, con il concerto a ingresso libero del gruppo di Rotta su Cuba, formato da Simona Bencini, Stefano Dedonato e Rossano Gentili. La celebre band, protagonista della scena funk italiana, farà ascoltare i suoi successi. La Kermes continuerà poi il prossimo 25 agosto, sempre a Palinuro, con il concerto di Nicola Napolitano, il trio Incantus, per spostarsi il 26, in contemporanea Cuccaro Vettere, per l'attesa Notte Mediterranea, a Futani, dove in programma la rievocazione storica 1828, la rivolta del Cilento, a cura delle associazioni artisti cilentani associati, e a San Mauro Labruca, dove si esibirà la cover band Noi Nomadi. Gli appuntamenti della manifestazione proseguiranno poi il 27 a Ceraso, dove ci sarà il concerto del gruppo di musica popolare Chiepò, il 1 settembre a Laurito, con il concerto di Katia Ricciarelli ed Espedito De Marino, il 6 settembre ad Alfano, con il concerto di Cesare Bende e Platos Cavè, e il 16 e il 17 settembre a Valle dell'Angelo, dove la manifestazione Ambienti Mediterranei si inserirà nell'ambito della Kermesse Weekend al Borgo. L'edizione 2017 si avviera quindi verso la conclusione, con spettacoli e concerti in programma a Palinuro dal 21 al 24 settembre, la cui serata sarà dedicata al Premio Internazionale Palinuro. Il nostro scopo è quello di valorizzare i luoghi, la cultura e la storia del territorio, dice il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, non un turismo fatto solo di bellezze naturali e di spiagge, ma un turismo culturale che faccia restare qualcosa di sé a chi viene a visitare i nostri luoghi meravigliosi.